Sono state delle pitture, degli affreschi sotto le pitture rispetto a certe zone in cui era stata fatta tutta una serie di interventi strutturati, una serie di verifiche, cioè ci davano una serie di condizioni. Quindi noi siamo partiti e non potendo ristrutturare però le risorse per fare questi scavi, queste ricerche, le avevamo a disposizione perché poi erano mi sembra 130.000 euro in tutto, quindi ci consentivano tanto di andare avanti per avere un progetto pronto, perché come sapete quando arriva dei finanziamenti c'è la possibilità di perdere i finanziamenti, poi in parte è chi ha il progetto pronto. Quindi l'idea era quella di essere comunque pronti per partire, perché al suo tempo noi avevamo fatto anche un progetto legato ai piani FIUS della regione, al bando regionale per avere finanziamenti, il progetto era stato approvato però non c'erano più finanziamenti perché erano terminati e quindi il progetto è approvato ma senza finanziamenti.